Grazie per lo chic, non è questo quello a cui tenevamo, ma invece dare un segno visibile che la città, soprattutto la Cireale civica, chiede con forza il suo parcheggio rosa. Ad la Cireale è possibile che qualcuno si traveste da donna pur di avere un posto? Può darsi e questo sarà un problema poi ad andarla a identificare, ma se è una sua scelta può parcheggiare pure lui. Senti, come sta andando? Sta andando bene, abbiamo avuto un grosso afflusso, già siamo a oltre 120 firme, la città sta rispondendo bene, ma questo già l'avevamo previsto, peccato che l'amministrazione comunale non senda da questo regno. Grazie Giovanni, un saluto al gruppo. Grazie a tutti e a presto.